Eccoli qui nella fotografia sono sei pizzini e tre proiettili e sono stati asportati dalla cadavere del boss Daniele Emanuello durante le cinque ore dell'autopsia. Sono i pizzini che il latitante ha ingoiato prima della fuga dal covo di Villa Priolo, tre nello stomaco e tre nell'esofago. Sono messaggi in codice che adesso bisogna decriptare. E poi ancora tre proiettili. Uno, il mortale, ha colpito Emanuello alla nuca quando ha tentato di scappare dalla finestra. Gli altri due invece sono stati scoperti nel corpo del numero due di Cosa Nostra Siciliana e sono risalenti nel tempo. Uno è nelle torace e sarebbe stato lì dal 12 agosto del 1988 quando Daniele Emanuello ha subito un agguato contro di lui e i fratelli Nunzio, Davide e Alessandro. Una pioggia di fuoco e loro salvi. Il secondo proiettile è nella scella e più recente di Causa Sconosciuta. Poi ancora altra fotografia. La carta di identità in bianco nascosta da Emanuello e uno scanner, un rilevatore di microspie. Nel frattempo, così come per lo piccolo, anche dopo il blitz Emanuello è caccia ai fiancheggiatori. Durante la notte i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta agli ordini di Marco Staffa hanno arrestato due presunti favoreggiatori. La procura nissena ha firmato ordini di fermo urgente per scongiurare il pericolo di fuga. Si tratta di presunti affiliati alla famiglia di Piddu Madonia. Giuseppe Zuzze, 45 anni, e Franco Notaro, 47 anni. Sono di Vallelunga, Pratameno, in provincia di Caltanissetta. Zuzze ha già precedenti per associazione mafiosa. Notaro è incensurato ed è titolare di una ditta di autonoleggio di Pullman. Zuzze e Notaro avrebbero ruotato intorno al covo di Villa Priolo, proteggendo la latitanza di Emanuello insieme al proprietario del cassolare, Roberto Lapaglia, 37 anni, di Villa Rosa, già arrestato lunedì scorso, quando è stato ucciso il capo mafia. Le altre scoperte qui, dentro la casa della sanguinosa irruzione, sono state una fondina per pistola, due scatole con 99 pallottole, calibro 9 per 21, un fucile da caccia e 117 cartucce e 3.900 euro addosso ad Emanuello. Grazie a tutti.